Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. L'alta pressione continua a proteggere l'Italia dalle perturbazioni atlantiche, anche se dovremo fare ancora i conti con un aumento della nuvolosità soprattutto al centro-node della nostra penisola, a causa del passaggio di nubi alte e stratificate legate alle perturbazioni che stanno apportando abbondanti piogge sull'Europa centrale. Aumento della nuvolosità che poi si concreterizzerà a inizio settimana con qualche debole rovescio sparso solamente però in Appennino. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 19 marzo. Cambiano leggermente le condizioni meteorologiche rispetto ai giorni scorsi. Le correnti occidentali apporteranno un aumento della nuvolosità soprattutto nei settori interni, appenninici lucani e delle colline murgiane. Si tratterà però lo più di nubi alte stratificate innocue con il sole a far da padrone. Per quanto riguarda le temperature, come possiamo vedere dalla grafica, risulteranno stazionali nei valori massimi in aumento di 1-2 gradi nei valori minimi. Venti deboli dei quadranti occidentali, mari da poco mossi a calmi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per questo splendido scatto del tramonto a Torre Lapillo. Le scale dalla Torre sembrano quasi portare all'interno del sole. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima puntata.